le esperienze che hanno ampliato di poco la nostra coscienza che differenza c'è tra sentire lato e sentire retto commento i fotogrammi le esperienze che hanno ampliato di poco la nostra coscienza sono chiamate dai maestri del cerco firenze 77 sentire lato mentre le esperienze che ampliano la coscienza sono chiamate sentire retto